Stiamo per addentrarci nel nido di Sith. Chi è la Sith? È forse l'unico vero drago eterno? Sith è un merdone! Bel cristallo Sith! Il trucco per tagliare la coda di Sith è far sì che sia lui stesso distruggere il proprio cristallo e poi andare alle spalle e colpire due. Suka Sith! Suka! Sith! Sith! La coda Sith! Fate attenzione, la coda di Sith è assolutamente la più difficile da staccare ed è per questo che ve lo sto mostrando. Eh! Sith, ancora un colpo Sith! Perché l'hai mancato? Sabaku, perché hai mancato? Ancora un po', sì! Oh, occhio! Il framerate! Sith! Basta, basta codate! Tieni la buona un secondo! Tieni la buona un secondo! Basta dare codate! Ma che succede alla tua intelligenza artificiale? Basta! Quindi questo è il modo migliore di farlo. Merda! Oh! Oh! Tieni la buona un secondo! Oh! Tieni la buona un secondo! Di solito non si incanta dare le codate comunque, sono stato un po' sfortunato con l'intelligenza artificiale. È un boss estremamente facile, quindi penso che adesso cercherò di mostrarvelo un po', anche solo esteticamente, prima di pulirlo. Sì, un attimo di calma. Allora, colpo uno! Colpo due! Oh, mi fai il soffio, per favore? Soffia, soffia, sì! Non hai voglia di starnutire? Bravo! Eh! Ok! Oh, non si è tagliata! Non si è tagliata! Ero convinto che col secondo colpo si sarebbe tagliata! Uh! Mamma mia, sei un totano, santo cielo! La coda viene intesa solo nell'ultimo terzo. Lo so che devo colpire! Altrimenti viene considerato colpo! Lo so! Che la coda del bastardello parte da molto in là! Lo so, lo so! È una parte piccola, ma non così tanto sulla... Oh dai, Sith! Tu, Sith, sei il simbolo di Dark Souls 2! Tutti i boss di Dark Souls 2 sono così! Non si capisce niente! Che brutta boss fight! Pietà! Spingetemi, spingetemi! Oh, ok, è fatta, è fatta! Ancora! No, l'ho mancato! Ancora! Mancato! R2! Beh, preso l'ho preso! Basta, Sith! Ti sto uccidendo! È vero, avete ragione! Evidentemente ho colpito proprio la parte sbagliata! È la peppa però! Quanto sei stronzo! Ehi! La coda! Sith, la coda, cazzo! Ma oh! E beh, allora ricordo male! È veramente così preciso sulla punta! D'accordo! Puntiamo alla punta! Mea colpa! Come si sconfiggono ora? Visto che voi mi dicevate... Ah! Vi chiami merdoni ma in realtà ti sconfiggono! Volete vedere come si sconfiggono i boss della seconda fase di Dark Souls 2? Così! Ah! Nestos! 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 Cazzo è caduta la linea! No! No! Cof! Cof! H cruch! Cof! 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 Però ho ragione! Sono dei merdoni! È uno scontro di merda! Oh cielo, Michele! 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 Pff! Andiamo a carvare un po' di Sith! Aiaiaiaiaiai! È da nudo! Aaaah! Au! Au da nudo! Ah o da nudo Ok Da noodle Levatevi Levatevi Devo mettermi l'elmo Bene cristallo Tieni la buona un secondo Tieni la buona un secondo Però ho ragione Sono dei merdoni La coda Bel cristallo Tieni la buona un secondo Tieni la buona un secondo Chi era Sith? Sith è un merdone Scusate Scusate Ok Scusate 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 German Scusate 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 Danie she